Torna per l'undicesima edizione Just the Woman I Am, l'evento solidale organizzato dal CUS di Torino con Università e Politecnico. Domenica 3 marzo per le vie del capoluogo, cittadini, associazioni e sostenitori della raccolta fondi a sostegno della ricerca universitaria su salute e cancro attraverso una corsa camminata di 5 km non competitiva. Non mancheranno fin dal 1 marzo iniziative collaterali per promuovere prevenzione, corretti stili di vita, inclusione e parità di genere.